Quando affrontiamo lo spinoso tema dell'editing delle immagini, in questo caso con Adobe Lightroom, una persona cosa farebbe? Andrebbe su YouTube e cercherebbe dei tutorial, verrebbe attirato da quei titoloni tipo la tecnica segreta che non conoscevi di Adobe Lightroom, la nuova funzione che stravolgerà il tuo editing delle immagini con Adobe Lightroom, però ci dimentichiamo dei fondamentali. Ci dimentichiamo che tutto l'editing si basa su dei processi di base che poi determinano l'ho riuscita di tutta la foto, tutto il resto, quello che finalizza la foto è di contorno, ci sono i fondamentali che sono importanti, le basi. Ovviamente prima di tutto ci deve essere una buona foto che devi realizzare nel posto dove vai a realizzare lo scatto perché la postproduzione miracoli non ne fa, o meglio grazie alle AI effettivamente miracoli ne fanno, ma si va a perdere un po' lo spirito di tutto quanto. Io sono Alessio, ti do benvenuto in questo nuovo video e oggi voglio farti vedere qual è il flusso di lavoro che mi sono creato nel tempo che ho perfezionato con Adobe Lightroom e che vado ad applicare su ogni immagine indipendentemente dal tipo, dopo ogni immagine verrà finalizzata in un modo differente, però le basi sono quelle. Prima di iniziare però come sempre ti chiedo di andare qui sotto, cliccare sul pulsantino di iscrizione al canale perché la maggior parte di voi guarda questi video ma non è iscritta e per me sarebbe molto importante, a te non costa nulla ma a me dà veramente una mano a far crescere e conoscere il canale. E da dove iniziamo? Iniziamo con la personalizzazione del flusso di lavoro degli strumenti che andrò ad utilizzare con Adobe Lightroom. Lo sapevi che si possono personalizzare la sequenza nella sequenza degli strumenti? Sono convinto che molti di voi non sanno questa cosa, quindi iniziamo e andiamo a vedere come si fa. Per accedere alla personalizzazione devo spostarmi nel pannello sviluppo, però prima voglio farti vedere una cosa. Vedi che qui ci sono vari pannelli, libreria, sviluppo, mappa, libro eccetera e magari tu non li utilizzi tutti. Se vuoi nascondere quelli che non ti servono ti basta fare tasto destro sulla barra orizzontale, comparirà un menu con tutti i pannelli spuntati ovvero visibili e tu disattiva la spunta sui pannelli che non vuoi vedere. Nel mio caso lavoro prevalentemente con il pannello libreria e il pannello sviluppo. A questo punto clicco su sviluppo ovviamente con l'immagine selezionata. A questo punto sulla colonna di destra trovi tutte le schede che contengono i vari strumenti. Io apro la scheda di base, trovo gli strumenti, apro curva di viraggio e troverò lo strumento dedicato, però magari hai notato che quando io apro una scheda le altre si chiudono e magari a te no. Questo succede perché io ho attivato una funzione specifica. Per accedere a questa funzione basta fare tasto destro su una delle schede, quindi tasto destro comparirà questo menu e vedi che io ho la modalità solo attivata. Di default solitamente disattivata e quindi quando tu vai ad espandere una scheda rimane aperta. Questo può andare bene se hai un monitor molto grande ma se hai un monitor piccolino magari ti conviene fare il tasto destro e attivare la modalità solo. In alternativa puoi espandere o ridurre tutto in un colpo. Attiviamo la modalità solo. Sempre all'interno del meresimo menu tasto destro troviamo anche personalizza pannello di sviluppo ed è quello che mi interessa farti vedere. Qui infatti vedi che ci sono tutte le schede che abbiamo qui sulla destra e puoi decidere prima di tutto di nascondere quelle che non ti servono. Ad esempio sfocatura con lente non mi serve la disattivo e clicco su salva vedi che è scomparsa dalla colonna di destra. Voglio rifarla comparire tasto destro personalizza pannello di sviluppo e riattivo questa visualizzazione. Ecco che ricompare però posso anche cambiare la sequenza delle schede e quindi tasto destro personalizza pannello di sviluppo e vado a scegliere spostando gli elementi come voglio io. Nel mio caso la sequenza è scheda di base scheda curva di viraggio scheda calibrazione quindi prendo calibrazione e la trasferisco un po più su eccola qui dopo calibrazione o il color grading quindi color grading lo trascino qui dopodiché mi va bene il mixer colori dopo voglio i dettagli che ci sono poi voglio gli effetti quindi effetti lo trasferisco qui in alto poi correzioni obiettivo poi trasformazione e per concludere sfocatura con lente. Questa funzionalità magari non mi serve posso anche disattivarla ma è una scelta mia. Clicco su salva e in questo caso per rendere attive queste personalizzazioni devo riavviare Adobe Lightroom. Qualcuno potrebbe chiedersi se sia realmente utile avere questa sequenza personalizzata di strumenti o se tanto vale utilizzare quella standard predefinita. Io credo sia molto utile perché ti permette innanzitutto di avere una tabella di marcia personalizzata in base al tuo modo di editare ma soprattutto ti permette secondo me di avere uno standard e quindi alla fine creare un metodo ma adesso che abbiamo visto come personalizzare il tutto ovviamente puoi adattarlo alle tue esigenze ti ho fatto vedere solo quello che utilizzo io si può passare all'editing e da dove si inizia dalle basi. Una volta riavviato Lightroom mi ritroverò nell'area di sviluppo la sequenza delle schede come la voglio io e posso iniziare col fare lo sviluppo dell'immagine ed inizio ovviamente dalla scheda di base. Qui ho tutta una serie di strumenti che seguo sostanzialmente in senso logico l'unica eccezione per il bilanciamento del bianco che lo lascio alla fine ed inizio quindi a fare le modifiche ovviamente in modo specifico per l'immagine che sto lavorando in questo caso vado ad aumentare l'esposizione per recuperare dettaglio sulle parti più scure non mi preoccupo tantissimo delle luci faccio affidamento anche qui sull'istogramma per vedere quanto vado a sfondare diciamo le luci però non mi preoccupo più di tanto perché posso recuperarle facilmente con luci e bianchi infatti vedi che luci lo porto anche a valore molto bassi bianchi la stessa cosa magari da un po di sostegno con le ombre schiarisco un po le ombre in modo da poter ritoccare magari l'esposizione ma può andar bene così su impatto qui ho texture chiarezza di mozione foschia vado a dare a tutti un valore per definito iniziale di 10 questo perché l'ho trovato un valore che va bene per la maggior parte delle immagini ovviamente anche questo si tratta di un valore iniziale dopodiché posso fare le modifiche che voglio ad esempio può tornare utile ed essere positivo per questa immagine ridurre riduzione foschia invece di andare con dei valori molto alti ci verrebbe questa tentazione possiamo anche utilizzare i valori un po più bassi vedi che si crea questo effetto bagliore diffuso che può star bene su questo tipo di immagini quindi lo abbasso un pochino ovviamente l'immagine guadagna luminosità quindi magari poi vado a lavorare con i neri per recuperare un po di zone scure vado a ridurre magari un po l'esposizione perché magari ha un po esagerato però l'effetto bagliore rimane solo in questa fase passo bilanciamento del bianco ho lasciato alla fine l'intervento sul bilanciamento del bianco tra gli interventi di base perché lo ritengo il più importante di questa sezione una volta che l'immagine è stata schiarita adattata base alla luminosità e contrasto possiamo gestire il bilanciamento del bianco che va ad influenzare tutta la dominante dell'immagine e se non è come la vuoi tu o sbagliata beh rischi poi di influenzare tutto l'editing di contorno sulla color che andrei a fare con i passaggi successivi per agire sul bilanciamento del bianco posso adottare in sostanza due metodi il primo è quello di prendere il campionatore andare sopra l'immagine campionare un punto che è di riferimento per il bilanciamento del bianco potrebbe essere ad esempio questo clicco lì e l'immagine viene regolata in alternativa faccio in modo manuale ovviamente bisogna avere un mono intortarato e vado a muovere temperatura sul bilanciamento del bianco e trovo praticamente la dominante che ci sta bene o vado ad eliminare le dominanti blu adesso però ti faccio vedere una cosa indipendentemente dal metodo che utilizzi adesso sbaglio il bilanciamento del bianco appositamente per farti vedere ti consiglio di prendere saturazione e portarla al valore massimo a cosa serve non per gestire l'immagine ma serve per evidenziare le dominanti infatti se ci fai caso su queste zone un po più in ombra delle rocce qui del rifugio noterai che si nota questa dominante blu che va a colpire appunto le zone più fredde dell'immagine e l'ho vista perché ha aumentato la saturazione al massimo quindi dopo vado a fare dei micro ritocchi sul bilanciamento del bianco per magari eliminare quella dominante una volta fatti i miei interventi ovviamente doppio clic su saturazione per riportare il valore a zero in questa fase se necessario vado a fare il ritaglio dell'immagine ovvero vado a fare quell'intervento per scegliere il rapporto d'aspetto correggere l'allineamento dell'orizzonte o fare dei leggeri crop e la cosa interessante è che una volta lo facevo all'inizio invece adesso e con il tempo ho capito che devo prima avere una visione chiara dell'immagine quindi corretta nell'esposizione del bilanciamento del bianco e solo dopo vado a gestire questo aspetto del ritaglio raddrizzamento rapporto d'aspetto perché determina la composizione dell'immagine stessa ed è un elemento fondamentale per la riuscita della foto per effettuare il ritaglio vado a prendere lo strumento sulla posizione ritaglio o tasto r a questo punto scelgo il ritaglio che voglio fare sull'immagine posso farlo liberamente ma io preferisco utilizzare dei predefiniti in questo caso per questa immagine un rapporto 16 noni ci potrebbe star molto bene panoramico quindi scelgo 16 noni vado a fare le regolazioni che desidero posso spostare il ritaglio posso anche regolare l'orizzonte se voglio lavorando qui esternamente al ritaglio posso regolare il tutto mi compare una griglia che mi dà una mano può andar bene così ovviamente ti ricordo che puoi comunque ritornare sui tuoi passi riregolare nuovamente il rapporto del ritaglio e tutto semplicemente tornando all'interno dello strumento una volta terminato il ritaglio passo alla scheda successiva quindi apro curva di viraggio e automaticamente si chiude la scheda di base con questo strumento posso veramente fare tutto vado a schiarire un po le ombre vedi alzando la parte finale si schiariscono un po le zone in ombra e si va anche a creare con l'effetto un po patina che piace sulle foto stile foto stampata su carta opaca alziamo un pochino senza esagerare faccio stessa cosa sui bianchi ovviamente riducendo e posso guidare un po di contrasto creando una leggera curva quindi clicco qui crea un punto di ancoraggio e abbasso un pochino per scurire queste zone clicco qui in mezzo vado ad alzare per schiarire e si crea un po di contrasto con l'occhiolino vedo prima o dopo cosa è successo piccoli interventi che però servono adesso vado a utilizzare uno strumento molto potente di adobe lightroom ma che so la maggior parte di voi che utilizza questo software magari snoba letteralmente nella sequenza di base predefinita lì sul fondo e spesso viene dimenticata con questo strumento molto potente vado a fare degli interventi di base per quanto riguarda la color dell'immagine infatti vado ad agire sui tre canali principali rosso verde e blu rgb appunto vado quindi a fare degli interventi guardando cosa è necessario fare su questa immagine c'è una dominante blu molto importante quindi quello che andrei a fargli io è sul blu primario ridurre un pochino la saturazione dei blu attenzione che se lo porto a meno 100 vedi come l'immagine diventa smorta ma non diventa monocromatica rimangono comunque delle dominanti visibili quello che devo fare è apportare un intervento delicato direi che un meno 15 o meno 20 ci potrebbe a star bene dopodiché voglio aumentare però la saturazione ad esempio di questa piana con sta zona leggermente verde gialla che quasi si perde ma vorrei renderla un po più presente quindi su saturazione vado ad aumentare un pochino questo valore un più 15 20 anche qui e faccio la stessa cosa sui rossi perché comunque hanno dei componenti rossi anche queste zone verdi gialle e quindi vado ad aumentare anche qui un po la saturazione se vado su vedi come aumenta tanto la saturazione di tutta l'immagine 15 20 anche qui se il blu continua a rimanere un po troppo persistente perché aumentando la saturazione del rosso del verde anche blu prende un po di corpo posso tornare a rimetterci le mani tra le altre cose parlando dei blu posso agire anche sulla tonalità vedi che qui posso dargli una tonalità più verso un azzurro diciamo e qui un po più verso il magenta posso fare delle micro regolazioni se voglio dare delle tonalità particolari al cielo in questa fase però lo lascio a zero posso poi andare sulle ombre questo strumento molto importante perché posso dare delle dominanti decisamente incisive sull'immagine stessa quindi bisogna stare attenti qui ad esempio potrebbe agire bene sulle ombre dare un po di magenta solitamente ci sta bene su questo genere di immagini per andare a vedere prima o dopo vado qui sull'occhiolino prima dopo come sempre i piccoli interventi non si notano fin tanto che non vai a fare proprio delle prove prima dopo e ora notti qual è l'entità dell'intervento che hai fatto se ti interessa un approfondimento sullo strumento calibrazione e di quanto può incidere positivamente sull'editing delle tue immagini vai qui sotto nei commenti e lasciami un feedback ma adesso andiamo avanti andiamo a vedere gli interventi che vado a fare per dare carattere all'immagine sulla color e vado a sfruttare le ruote colori e i mixer colori passo quindi al color grading apriamo questa scheda è composta da tre ruote per i mezzi toni ombre e luci e una cosa interessante è che se ad esempio io vado sulle ombre si posso gestire le dominanti applicando delle dominanti alle zone d'ombra ma posso anche gestirne la luminosità quindi vedi posso scurire ad esempio le ombre o schiarirle è una doppia funzione molto utile doppio clic su regola per risettare il tutto per questa immagine io vado a dare delle dominanti sulle zone che mi interessano ombre e luci per applicare delle dominanti o vado ad agire qui sulla ruota o vado a cliccare qui ho già dei campioni ad esempio per questa immagine posso fare dei test ovviamente vado a dare una dominante un po più calda se gli do una dominante fredda secondo me non ci sta vado contro quello che ho fatto finora ovvero smorzare un po i toni freddi quindi gli do una dominante un po più calda mi sposto sulle luci e qui invece faccio un po l'opposto vado sempre qui nella dominante non vado a dargli una dominante calda altrimenti il cielo perde ma piuttosto gli do una leggera un leggero tocco di dominante blu ma che va a colpire esclusivamente le zone luminose anche qui per vedere l'entità dell'intervento occhiolino prima dopo passo quindi alla scheda successiva mixer colori che mi permette di fare degli interventi selettivi su delle aree specifiche dell'immagine tonalità saturazione luminanza potendo scegliere un colore messo a disposizione dagli sviluppatori del software tipo ad esempio se io voglio ridurre un po la luminosità del cielo che è prevalentemente blu potrei andare su luminanza prendo il blu e vedi che con questo slider posso schiarire oscurire quel colore e quindi vado ad incidere anche sull'immagine tuttavia da un po di tempo a questa parte io preferisco utilizzare colore punti questa nuova funzionalità introdotta da lobby lightroom dove io posso campionare un colore quindi prendo il campionatore scelgo il colore che voglio gestire potrebbero essere appunto questi blu clicco lì e cosa mi permette di fare posso gestirne la tonalità la saturazione e la luminanza quindi posso ad esempio ridurre un po la luminosità vedi come va ad incidere e posso magari ridurre anche un po la saturazione se è eccessiva vedi che posso anche togliere totalmente la saturazione dal cielo ma non voglio esagerare quindi sempre solo un pochino anche qui vediamo prima dopo l'intervento qui è molto più evidente e qui posso anche fare delle altre regolazioni per essere più preciso sul campione che ho selezionato o più ampio nel mio caso preferisco rimanere un po più ampio lo vedo anche dalla dall'anteprima prima dopo forse ho esagerato un po troppo con la luminosità ok prima dopo abbiamo quasi terminato tutti gli interventi di base ma manca ancora qualche passaggio che consiste nel migliorare la percezione della nostra immagine attraverso la nitidezza e comunque degli interventi estetici apro la scheda dettagli qui potrò gestire sia la nitidezza sia la riduzione del disturbo per lavorare sulla nitidezza ti consiglio di ingrandire una zona dell'immagine in questo caso ricca di elementi che mi faranno capire quanto va ad incidere l'intervento che vado a fare e poi agiremo sulla riduzione del disturbo per l'ingrandimento della zona per gestire la nitidezza ti consiglio di utilizzare l'ingrandimento 100% si gestisce nella colonna di sinistra in alto abbiamo adatta 100% e poi un ingrandimento a piacere che vedremo dopo ma lasciamo al 100% per lavorare sulla nitidezza vado ad agire sul fattore raggio dettagli a mascheratura però ad esempio su raggio ti consiglio di non superare il valore di 1 questo è un valore che ho individuato io per esperienza perché scelgo questo valore massimo 1 e vado poi ad agire con il fattore per decidere quanto la nitidezza deve essere applicata sulla mia immagine posso anche utilizzare i valori molto alti su dettagli in sostanza vado ad amplificare o ridurre questo questo fattore di nitidezza però anche qui non posso esagerare altrimenti guarda che artefatti vengono fuori io ti consiglio di utilizzare un valore pari a 25 al massimo arrivo fino ai 30 35 non vado oltre quel valore devi considerare che qui ho applicato l'aumento di nitidezza ti par di notare degli artefatti ma l'immagine va vista a queste dimensioni quindi non si noteranno mai quei piccoli artefatti però se io vado ad ingrandire ad esempio questa zona e non al 100% ma vado ad utilizzare un ingrandimento 200% eh sì qui vedi che su questa zona molto uniforme compaiono degli artefatti che magari non sono molto carini posso ridurli un pochino lavorando con la riduzione del disturbo vado qui su luminanza e vado ad aumentare questo valore e posso portarlo su ovviamente se esagero diventa tutto piatto non è questo lo scopo vado solo a ridurre un pochino per il solito discorso di prima perché poi l'immagine va vista a queste dimensioni quindi l'intervento che io vado a fare serve giusto per togliere un pochino di rumore in quelle zone che comunque se poi vado a stampare non si noterà mai posso andare avanti con gli effetti apro la scheda effetti e qui posso applicare un po di vignettatura non è che ci sono tanti effetti disponibili ma magari ecco sì all'occhio un po di vignettatura piace quindi un pochino la applico senza esagerare vediamo prima dopo anche qui devo stare un po attento a non esagerare e farmi prendere un po troppo la mano e siamo arrivati al momento degli interventi localizzati ovvero sfruttare delle maschere per migliorare delle parti specifiche nella tua immagine nella tua foto non è necessario farla sempre tuttavia se applicate in modo intelligente e con consapevolezza veramente può dare una marcia in più alla tua foto che non avrebbe senza questo tipo di intervento in questa immagine voglio fare degli interventi selettivi in particolare voglio enfatizzare un po il cielo e schiarire delle zone in ombra su questa scena quindi vado a sfruttare le maschere vado qui ed inizio con la sfumatura lineare vado ad applicare una sfumatura lineare sul cielo vado a ridurre un po l'esposizione non tanto veramente un pochino posso anche utilizzare di qui l'occhiolino per vedere prima o dopo e vado a utilizzare chiarezza per tirare fuori un po di dettaglio di contrasto su quella fascia luminosa e renderla appunto un po più interessante sempre senza esagerare vediamo prima dopo ad ogni modo ti ricordo che qui abbiamo il fattore che ti permette di decidere come le maschere devono essere incisive sulla scena di default impostata a 100 una via di mezzo ovviamente poi ridurla aumentare la sua intensità lasciamo come valore di default 100 e poi decidiamo cosa fare posso anche a visualizzando la maschera decidere di non farla applicare in determinate zone sottraendo in questo caso utilizzo il pennello regolo le dimensioni flusso e dico guarda non applicarla in queste zone vedi che doppio spennellate e sparisce l'intervento e anche qui posso vedere prima o dopo e può andarmi bene adesso voglio schiarire delle zone qui alla sinistra e qui alla destra posso utilizzare vari strumenti io vado a sfruttare la sfumatura radiale la trovo comoda vado a selezionare la zona eccola qui questa qui è la sfumatura che ci voglio applicare e vado ad aumentare un po l'esposizione guarda un pochino posso anche lavorare eventualmente con le ombre se lo desidero però magari le ombre sono un po troppo eccessive lavoriamo solo con l'esposizione guarda qui andiamo a vedere con la singola maschera prima dopo guarda come ha schiarito questa zona potrò anche riposizionarla se lo desidero a mia scelta eccola qui e anche ruotarla ne applico un'altra qui quindi una nuova sfumatura radiale in questa zona qua vado a posizionarla in questo modo ok anche qui faccio la stessa cosa vado a aumentare un po l'esposizione per far venire fuori un po vedi anche la stradina tutto quello che c'è lì è molto interessante ok sfumiamo benissimo direi che ci siamo andiamo a vedere prima dopo vedi come tutti gli interventi hanno aiutato a migliorare la nostra scena riprendo questa magari vado ad ampliarla un po di più qui in basso perfetto prima o dopo il numero di entità di interventi che posso fare in modo selettivo è totalmente soggettivo per quanto mi riguarda direi che può bastare quindi chiudo questo gruppo di mascheratura di interventi localizzati nel mio flusso di lavoro mi rimangono ancora delle schede c'è la correzione obiettivo la trasformazione che sono entrambi elementi che servono per correggere dei difetti ottici di prospettiva dell'immagine rimane poi alla fine sfocatura con lente che è un intervento prettamente artistico anche qui non vado a sfruttarlo per questa immagine l'ultimo passaggio della pulizia finale ovvero vado a eliminare tutti quei difetti come polvere sul sensore o elementi di disturbo e poi guardo l'immagine nel suo complesso per eventuali ritocchi finali gli interventi di pulizia che puoi fare su un'immagine sono sostanzialmente spinti da due motivi o vai a ricercare dei difetti causati da della polvere sul sensore che va a creare delle macchie sulle zone più uniformi dell'immagine oppure vuoi eliminare degli elementi di disturbo come questi furgoncini in questa immagine che a me non piacciono assolutamente le persone mi stanno bene coi furgoncini no per fare questa pulizia vado a sfruttare uno strumento che c'è qui a disposizione correzione abbiamo tre modalità di intervento ma soprattutto partendo ad esempio dal presupposto di voler cercare dei difetti per quanto riguarda le macchie sul sensore andiamo a sfruttare questa funzione visualizza imperfezioni questa modalità attivata ti mette a disposizione uno slider che evidenzia dei bordi di contrasto ed è molto utile per individuare ad esempio delle macchie causate dalla della polvere sul sensore mi concentro sulle zone più uniformi qui non ce ne sono proprio quindi non c'è questa necessità disattiva questa modalità mi concentro quindi sull'intervento di eliminazione di questi furgoncini vado innanzitutto ad ingrandire questa zona premo la barra spaziatrice compare la lente di ingrandimento e mi sposto in questa zona ottimo e vado a utilizzare quale strumento ce ne sono vari e quello più efficiente ultimamente inserito è in base al contenuto quindi cosa faccio seleziono quello regalo le dimensioni del mio pennello l'opacità al massimo e vado ora cosa faccio vado a dipingere selezionare praticamente gli elementi che voglio far sparire questo intervento in base al contenuto in sostanza fa sì che lightroom analizzi tutte le zone che attorno e cerchi di replicare proprio le crea da zero una zona che ci potrebbe star bene sopra e qua ti dà anche la possibilità di cliccare su aggiorna se ad esempio l'intervento non ti piace lui fa delle altre elaborazioni in questo caso io ti consiglio non di guardarlo così ingrandito ma premo la barra spaziatrice ritorno alla visualizzazione più ampia e allora sì adesso posso avere una visione un po più chiara di quello che sarà l'impatto finale qui ci sta bene perfetto posso chiudere lo strumento e come vedi l'intervento qui c'è ma non si vede e può starmi decisamente bene per questo risultato non mi resta che fare gli interventi finali guardando l'immagine nel suo complessivo e capire se c'è qualche ultimo ritocco da fare per fare questo solitamente io consiglio una cosa che sembra innaturale di ridurre le dimensioni quindi vado qui in alto a sinistra sulla colonna sullo zoom e vado a scegliere un ingrandimento molto più piccolo del 100 per cento ad esempio un 25 per cento perché consiglio questo metodo perché così riesce a vedere l'immagine dal punto di vista visivo nel suo complesso in modo molto più ampio in modo molto più preciso con i tuoi occhi invece su uno schermo troppo grande potrebbe distrarti un pochino non farti comprendere l'immagine nella sua totalità e qui veramente vado a fare tutti i ritocchi finali che possono essere anche la composizione quindi vado a riadattare un pochino la composizione dando più spazio magari al rifugio oppure posso decidere di andare su effetti e dare ancora un po di più di vignettatura ad esempio ancora posso andare sulle mascherature prendere ad esempio la mascheratura del cielo e dire ok qui magari è necessario aumentare un po la chiarezza è necessario col fattore renderla meno incisiva o più incisiva posso fare tutta questa serie di interventi finali avendo una visione un po più ampia della mia immagine una volta terminato posso vedere com'era l'immagine all'inizio prima dopo ecco l'immagine iniziale ecco l'immagine finale con tutta la serie di modifiche che ho applicato e siamo arrivati alla fine di questo video se ti è piaciuto pollici in su vai qui sotto e clicca sull'iscrizione del canale fammi sapere con dei feedback se ti è tornato utile quello che ti ho portato ringrazio ancora tutti voi che mi avete seguito fino a questo punto e ringrazio i sostenitori del mio progetto tutti i patroni troverai tutte le informazioni qui sotto se vuoi sostenermi anche tu in questo viaggio che sto facendo portandoti dei contenuti relativi alla fotografia per questo video è tutto ci vediamo al prossimo episodio ciao da lessio